L'importante appuntamento con l'Assemblea dei Soci di domenica 13 maggio è l'occasione per i vertici della BCC di Fano per fare il punto sull'andamento economico e sui progetti futuri dell'Istituto di Credito. La banca si riconosce e fa propria la responsabilità non solo economica ma anche sociale nei confronti dei soci e di tutta la comunità locale di riferimento. Una realtà che però non prescinde dal percorso di cambiamento previsto dalla legge 49 del 2016 di riforma delle banche di credito cooperativo. L'obiettivo è quello di realizzare una maggiore integrazione delle quasi 300 banche operanti sul territorio nazionale per rispondere in maniera adeguata ai nuovi contesti di mercato e dalle sollecitazioni normative collegate all'entrata in vigore dell'Unione Bancaria Europea. Con la riforma è iniziato pertanto per l'Ibcc un nuovo corso che permetterà di disegnare un modello organizzativo nuovo ed originale capace di unire cultura locale e respiro europeo. Il ruolo delle banche di credito cooperativo deve rimanere magari facendo anche qualche dove è possibile, dove c'è l'accordo, dove non è una forzatura che magari alcune Ibcc si possono mettere insieme. Questo potrebbe riguardare anche noi, non lo escludiamo. I dati di bilancio 2017 confermano che la Bcc di Fano è una banca sana e che potrà continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità e ci regalano un certo ottimismo nei confronti di una ripresa economica che sta interessando anche il nostro territorio. Utile d'esercizio, quasi 3 milioni di euro, fondi propri per 100 milioni di euro accantonati, in oltre 100 anni di storia, un patrimonio netto di 99 milioni di euro ed un capitale sociale di 11. Sono la fotografia di una banca che ha saputo reagire ed innovarsi, aumentando anche il numero della clientela di oltre 1.000 unità e di soci di 600 unità, sempre nel 2017. Il modello è mettere insieme le forze, ricercare sinergie e questo direi che è anche l'auspicio che vogliamo portare avanti anche per il nostro sistema economico. Le piccole e medie imprese hanno bisogno di mettersi insieme e cercare di avere obiettivi comuni per migliorare l'efficienza e le risposte a quelle che sono le esigenze delle famiglie del territorio.